Al termine di una lunga e complessa indagine, la Guardia di Finanza di Sernia ha segnalato alla Procura regionale della Corte dei Conti di Campobasso, guidata dal dottor Stefano Grossi, 151 persone, tra rappresentanti legali, amministratori e responsabili del settore tecnico, poiché, secondo l'accusa, avrebbero provocato un danno all'erario di oltre un milione di euro. Gli uomini del comandante Vito Simeone hanno accertato che soggetti segnalati a vario titolo, ciascuno per le relative competenze, non hanno provveduto negli anni all'aggiornamento degli oneri concessori, che avrebbero dovuto essere aggiornati ogni cinque anni. Sostanzialmente hanno messo di aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre ai costi di costruzione previsti nella legge Bucalossi e successivamente nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. L'indagine è partita nel 2016 ed è stata condotta autonomamente dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Sernia. Dopodiché, con la supervisione della Corte dei Conti, l'operazione è stata portata avanti dalle fiamme gialle, mediante l'acquisizione, presso i 52 comuni della provincia di Sernia, di provvedimenti amministrativi come delibere di giunta, di consiglio e determine, con cui sono stati disposti gli aggiornamenti degli oneri concessori e quelli autorizzativi, ad esempio permesso di costruire scia, dia e quant'altro. È stato richiesto altresì per ogni singola autorizzazione lo schema di calcolo utilizzato per la determinazione dei relativi oneri concessori. In quasi tutti gli enti attenzionati la finanza ha accertato l'inosservanza delle disposizioni nazionali e regionali che regolano la materia. Analisi cui ha fatto seguito la quantificazione degli oneri che coloro che avevano richiesto i provvedimenti autorizzativi avrebbero dovuto corrispondere qualora fossero stati applicati normalmente gli adeguamenti normativi previsti. La differenza emergente tra l'importo versato dal richiedente e quello effettivamente dovuto, opportunamente ricalcolato, ha rappresentato pertanto il danno erariale contestato, quantificabile in oltre un milione di euro. L'intervento delle fiamme gialle, hanno dichiarato i vertici provinciali della Guardia di Finanza, ha implicitamente sollecitato la quasi totalità degli enti ispezionati ad eseguire gli aggiornamenti non effettuati, con emanazione di provvedimenti amministrativi correttivi che hanno sanato una irregolarità in molti casi persistente da oltre 40 anni. In altre circostanze, gli enti controllati, per effetto delle contestazioni mosse e degli aggiornamenti operati, hanno autonomamente invitato i richiedenti dei provvedimenti autorizzativi a versare le somme aggiuntive, riducendo in parte o addirittura azzerando il danno erariale accertato. Grazie.